7 rimedi naturali a base di bicarbonato di sodio. Che lo utilizziate come rimedio esterno o come rimedio interno, il bicarbonato di sodio è un prodotto molto efficace per alleviare molteplici disturbi. Non bisogna, però, eccedere con l'uso. Il bicarbonato di sodio è un prodotto utilizzato in ambito gastronomico come agente lievitante per i prodotti da forno. Permetta agli impasti di gonfiare e di acquisire una consistenza morbida. Secondo alcuni dati statistici, molte civiltà hanno utilizzato questo ingrediente per preparare pane e altri alimenti che dovevano aumentare di volume. Da sempre, inoltre, si tengono in considerazione le proprietà medicinali del bicarbonato di sodio per prevenire e trattare problemi di salute di varia natura. Attualmente, la maggior parte delle persone tiene in casa questo prodotto per utilizzarlo in cucina o per la pulizia. Tuttavia, non tutti conoscono i rimedi naturali che si possono preparare a partire da questo ingrediente. Per questo motivo, oggi vogliamo condividere con voi 7 interessanti impieghi del bicarbonato di sodio per trattare diversi disturbi e sintomi. Siete curiosi? Continuate a leggere per saperne di più. 7 Rimedi a base di bicarbonato di sodio 1 Rimedio per la congestione nasale Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie ed antibatteriche, il bicarbonato di sodio è un ottimo rimedio per pulire e ridurre l'infiammazione delle cavità nasali che impediscono la corretta respirazione quando sono ostruite. Ingredienti 1-4 di cucchiaino di bicarbonato di sodio 1,2 gr 1 cucchiaio di acqua 10 ml Cosa dovete fare? Mescolate il bicarbonato di sodio con l'acqua e utilizzate un contagocce per versare qualche goccia nelle cavità nasali. Ripetete il trattamento due volte al giorno. 2 Rimedio contro le punture di insetti Prima di uscire di casa e fare attività all'aria aperta, è bene portare con sede il bicarbonato di sodio in caso di punture di insetti. Questo prodotto, infatti, ha un'azione calmante naturale che riduce l'irritazione e il dolore causato da insetti, api e formiche. Ingredienti 2 cucchiai di bicarbonato di sodio 20 gr 4 cucchiai di acqua 40 ml Cosa dovete fare? Mescolate il bicarbonato di sodio con l'acqua fino ad ottenere un impasto compatto. A seguire, applicatela sulla zona interessata tramite un leggero massaggio. Lasciate agire e ripetete l'applicazione se lo ritenete necessario. 3. Rimedio per alleviare l'indigestione Le proprietà digestive del bicarbonato di sodio sono conosciute in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda i benefici contro i sintomi dell'indigestione e dell'ulcera. Rientra tra i prodotti naturali con proprietà alcaline e un suo consumo minimo è ottimo per controllare l'acidità. Ingredienti 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 5 gr 1 bicchiere di acqua 200 ml Cosa dovete fare? Mettete un cucchiaino di bicarbonato di sodio in un bicchiere d'acqua e bevetelo immediatamente. Ripetete il trattamento al massimo due volte al giorno, infatti una dose eccessiva potrebbe essere pericolosa. 4. Rimedio per le scottature L'uso di questo ingrediente sulle bruciature o scottature aiuta a lenire il dolore e a prevenire la comparsa delle vesciche sulla pelle. Ingredienti 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 5 gr ½ bicchiere di acqua fredda 100 ml 1 panno morbido Cosa dovete fare? Diluite il bicarbonato di sodio nel bicchiere di acqua fredda ed immergetevi il panno. Sfregatelo dolcemente sulla zona in questione con un leggero massaggio. Ripetete il trattamento fino a tre volte al giorno. 5. Rimedio per il mal di gola Le proprietà antibatteriche di questo prodotto contribuiscono a ridurre la presenza dei batteri e dei virus responsabili delle infezioni alla gola. Questo effetto viene potenziato in combinazione con il portentoso aceto di mele. Ingredienti 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio 5 gr 1 cucchiaino di aceto di mele 5 ml ½ bicchiere di acqua tiepida 100 ml Cosa dovete fare? Diluite il bicarbonato di sodio e l'aceto di mele nel bicchiere di acqua tiepida. Assumetelo al massimo due volte al giorno. 6. Rimedio contro le infezioni urinarie Le infezioni del tratto urinario possono essere un segnale di uno squilibrio nel pH naturale del corpo. Per regolare quest'ultimo e tenere sotto controllo la proliferazione di virus e batteri, si può approfittare delle proprietà alcaline di questo prodotto naturale. Ingredienti 1 barra 2 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 2,5 gr, 1 barra 2 bicchiere di acqua, 100 ml, cosa dovete fare? Versate il bicarbonato di sodio nel mezzo bicchiere d'acqua e bevetelo due volte al giorno, per tre giorni consecutivi. 7. Rimedio per neutralizzare il cattivo odore corporeo Per evitare gli effetti negativi dei parabeni e dell'alluminio contenuto in vari tipi di deodoranti e prodotti antitraspiranti, si può optare per il bicarbonato di sodio come alternativa naturale. Ingredienti 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 10 gr, 2 cucchiaio di bicarbonato di sodio, 10 gr, 2 cucchiaio di acqua, 20 ml, cosa dovete fare? Preparate un impasto denso con i due ingredienti e sfregatelo sulle ascelle e su altre zone del corpo che emanano cattivo odore. Potete farlo durante la doccia, in modo che sia più semplice realizzare questo rimedio. Questi sono solo alcuni dei rimedi che si possono preparare con questo ingrediente così versatile ed economico. Ricordate di scegliere un prodotto di buona qualità, affinché sia efficace sulla salute. Inoltre, usatelo in dosi moderate per non correre il rischio di alcalinizzare troppo il corpo.